Un torneo lungo una giornata intera, notte compresa, per omaggiare la memoria di chi non c'è più e per mantenere viva una tradizione che dura ormai da oltre 30 anni. Sabato 29 e domenica 30 luglio torna Piaggia la 24 ore di calcetto Memorial Pamela Sbrega, un evento nato alla fine degli anni 80 come torneo delle vie e che nel corso del tempo ha saputo trasformarsi, coinvolgendo l'intero territorio di terre roveresche ed intorni. Il fischio d'inizio è previsto per sabato alle 16. La finale è in calendario alle 21 di domenica. In mezzo, oltre a tantissime partite che vedranno impegnate 10 squadre e 120 giocatori, tanti giochi e attività per i più piccoli, musica e stand gastronomici per un evento sempre più formato famiglia. Teatro della manifestazione, che in questa modalità stile maratona non stop tocca il traguardo delle 13 edizioni, sarà il campo sintetico scirea e tutta l'area circostante, dove saranno allestiti gazebo e punti ristoro attivi per tutte le 24 ore e oltre. Ad organizzare è il GSD Lubacaria Piaggia SD, con la collaborazione di Avis Terre Roveresche, Avis Provinciale, CSI Pesaro Urbino con sede in Fano e il patrocinio del Comune di Terre Roveresche e del Consiglio Regionale delle Marche. E per chi non potrà essere presente sul posto, sono attive le pagine Facebook e Instagram 24 ore di calcetto piagge, dove ora dopo ora saranno pubblicati gli aggiornamenti e dove si possono consultare il calendario e il programma dettagliato della manifestazione.